3, 2, 3, 3, alzi la mano perché voglio mettermi alla prova davanti a voi perché questo era un gioco un po' così voglio sapere chi di voi sa che cos'è questo, cosa potrebbe essere questo? Birsing? no, un orecchino? o una collana? no, portachiavi? no, qualcuno l'ha detto, forse qualcuno lo usa ancora a casa cosa sono? bravi, delle manette sapevano che gli adulti le conoscevano, sono delle manette molto antiche, le famotissime manette di Udini mi conosci Udini? alzi la mano? bene, non era di Udini, Udini, comunque Udini era un mago ma era un scapolo che cos'è un scapolo? era una persona che veniva incatenata a mani ai piedi e riusciva a liberarsi oggi io davanti a voi vi farò incatenare le mani e cercherò di liberarmi alzi la mano chi pensa che io riuscirò a liberarmi? grazie alzi la mano chi pensa che non riuscirò a liberarmi? grazie per la fiducia, bene allora, ho bisogno di due aiutanti, vediamo, io farei salire qualcuno sul palco vediamo, c'è qualcuno caraggioso? tu come ti chiami? William vieni William, facciamo un applauso a William allora, metti qui lì, dove c'è la X? stavolta c'è la X veramente, adesso è tutto il vivo, non c'è però no, metti qui sulla X, ma poi la X ok, c'è un applauso a William, adesso vediamo c'era quella ragazza, va giù con i capelli di X si, puoi venire per favore? se vuoi William, non siamo messi da colla, però ho visto per i mani facciamo un applauso a tutti i ragazzi Annai non canta, non mi parla nuove un applauso a Annai, perfetto, mettiti qua voi come sei? spero che scolla, adesso vi mostro gli anni qui va? no, mi tolgo solo la giacca allora, grazie, sarebbe un'età, ma faremo le nuove, adesso però non importa allora, atti insieme cosa abbiamo qua due? lucchetti, sono dei lucchetti, avete mai il rapo lucchetti? sai che c'era un lucchetto? come si fa? si chiude e se li apri, girano prova prova che tu vai, chiudi il rapo tanto mi tolgo un po' le cose che non mi servono ditevi quando avete finito di giocare, adesso possiamo fare la magia perfetto, come funziona il gioco? io dovrò mettere le mani tra le due catene voi, con l'opera aperta, dovrete in tre da un buco di una catena all'altro e incatenarmi più vicino al polso, più difficile per me è liberarmi c'è pronto? lascia un applauso a William e si lascia un applauso per un anno per essere molto cattivo una volta chiuso togli la chiave e mangia no, schiaccia, non mangia allora lasciala sul tavolo schiaccia, è un po' duro, non è chiuso schiaccia forte togli la chiave ok, è chiuso perfetto, metti la chiave sul tavolo bene, stai sempre sull'Age mi raccomando, tu non spostati a dire già no vai, un applauso anche a I togli la chiave perfetto, ora sono incatenato volete controllarlo? ritirate? c'è una controllare ai giudici, puoi trovare a tirare io sono incatenato e stacca, va bene ancora allora, fare un'altra Age allora, attenzione adesso è arrivato un momento speciale allora, prendi la spalla aspetta, com'è qua la la chitata scusa, un attimo facciamo un applauso alla giacca prendi la giacca la spalla prendi l'altra spalla perché adesso dovrò cercare di liberarmi come funziona? io metterò le mani sotto la giacca conterò 3 2 1 gli hanno dovuto contare fino a 10 pianeta 10 cioè, mi sembra 10 mi riesco capito che lui ha dato tanti 10 8 perché 8? perché 8 perché 8 il regalo mondiale per liberarsi le regate perché se io farò meno di 9 secondi voi vi aiutate i piedi e batterete in mano se farò più di 8 non ho mai fatto questo gioco ok? tutto chiaro? bene cambia mano bravo siete pronti? un po' più giù allora 3 2 stai fatti su un po' pronti? sono regato no? si parla un po' dritto neanche due volte sono già sudato moro in un spazio pronti? 3 2 stai nuovo stai inferiore 3 cosa c'è che a dire? cioè ti faccio dire dovrebbe dire 30 che nago sul barco cioè stai fermi? 3 2 chi ha cantato? non devi contare il punto io e 3 voi contate dopo se no non vedi la magica se può fare una mamma c'è solo sbagliata non l'idea stai inferiore 3 2 ok 3 3 sono regato 3 2 1 via 2 3 4 grazie sono libero allora io sono liberato un applauso un applauso un applauso un applauso un applauso